ok faccio entrare ancora ci siamo Alfonso? ok piccolo problema tecnico adesso ci siamo Andrea Vassalini introducici tu il subject di questo bellissimo seminario mi hai detto che oggi è corposo quindi non vediamo l'ora grazie a tutti per la partecipazione a presto, a dopo ok, di nuovo benvenuti per chi aveva già sentito rifacciamo un attimo brevemente io sono Andrea Vassalini Master Trainer certificato da Blackmagic Design per DaVinci Resolve 17 l'incontro che abbiamo organizzato oggi con Blackmagic Design e con ADCOM riguarda l'HDR l'iDynamic Range nel ambito video come stavo accennando poco fa prima del inizio della diretta Facebook con i ragazzi che ringrazio tutti voi chiaramente di essere qua il passaggio all'HDR è quello che riguarda il nostro futuro ok, noi siamo abituati pressoché da sempre ovviamente nel mondo digitale a lavorare con l'SDR che è lo standard definition range mentre l'iDynamic Range è un qualcosa che ha e sta e rivoluzionerà quindi passato, presente e futuro rivoluzionerà il mondo del video lo sta già rivoluzionando ok, infatti accennavo prima per chi si è collegato poi dopo dicevo ho la fortuna di collaborare di lavorare di studiare anche con Kevin Shaw inglese è uno dei massimi esperti mondiali dell'HDR e chiacchierando con lui giustamente si è arrivati alla conclusione che l'HDR è la grossa seconda rivoluzione per quanto riguarda l'ambito video ovvero la prima enorme rivoluzione se vogliamo degli ultimi anni già da parecchio è stata quella del passaggio dall'analogico al digitale poi non c'è stata questa per quanto si possa credere no che una grossa rivoluzione sia stata quella di passare ai 4K ok adesso 6, 8, 12 con Blackmagic addirittura no in realtà no la realtà effettiva dei fatti è essere passati all'HDR perché l'iDynamic Range permette ne parleremo un po' permette proprio di avere un una dinamica del segnale video molto ma molto maggiore di quello che siamo abituati a vedere ok in più ha la possibilità oltre alla luminosità di giocare con gli spazi di colore in maniera anche qua infinitamente più ampia ci vuole tanta ci vuole pazienza ci vuole secondo me molta umiltà nell'approcciarsi a questo tipo di discorso perché è comunque estremamente variopinto è estremamente artistico ed è estremamente tecnico sotto altri punti di vista per cui lo scopo di oggi è quello di introdurre un po' tutto quello che è il mondo dell'HDR e vedere come Da Vinci Resolve come in Da Vinci Resolve ci si può comportare ok la prima cosa che faccio adesso è condividere con voi lo schermo e dovrei condividere quello giusto ok vediamo un attimo ci sono 50 ora pam dovreste vedere voi stessi ok quindi intanto dovreste vedere il mio desktop con la finestra che sto muovendo mi confermate si confermo perfetto ti ringrazio Pietro intanto rispondo già Daniele Sacchi stai parlando di visione non registrazione la registrazione è error e la evoluzione absolutely infatti è proprio la prima cosa che vado a dire adesso ora io mi faccio questo tipo di lavoro e voi dovreste vedere se mi riconfermi Da Vinci Resolve HDR Tools in Color Pipeline esattamente perfetto grazie infinite e così ci siamo allora incominciamo a capire l'HDR di che cosa stiamo parlando allora quello che è la realtà dei fatti è che giustamente come un attimo fa proprio specificava Daniele le camere da tanto tempo ormai sono in grado di registrare no principalmente giusto con i formati raw una dinamica del segnale video che è esagerata d'accordo rispetto a quello che i display sono sempre stati in grado di poter rappresentare quindi noi avevamo una dinamica di segnale di un certo tipo che poi veniva comunque ridotta a un livello inferiore quindi la limitazione d'accordo è sempre stata quella non tanto delle camere ma è sempre stata quella del aspetta che faccio entrare Danilo la limitazione dicevo è sempre stata quella del monitor fondamentalmente ok quindi finalmente abbiamo dei display che permettono la rappresentazione del materiale a questa rappresentato in HDR quindi high dynamic range e questa è una condizione sine qua non se vogliamo perché comunque non possiamo visualizzare in un materiale in HDR ok se non abbiamo un monitor che supporta l'HDR quindi a volte ti viene chiesto giusto via zoom mi fai vedere per favore un attimino la differenza in HDR e no non funziona così cioè non si può fare nel senso che comunque devi avere un monitor di di riferimento che sia e ne parleremo poi più avanti che sia proprio quello dedicato all'HDR ora la cosa importante da capire ok che i display ok scusate la tecnologia chiamiamola HDR non rende le immagini soltanto più luminose d'accordo non sono solo più luminose ma abbiamo proprio un range dinamico più ampio quindi spingiamo più verso il basso e spingiamo più verso l'alto le aree più chiare e le aree più scure ok quindi questo fa una grossa differenza la prima cosa da ricordare che molti di voi sanno già sicuramente è che la luminosità brightness di un display viene misurato in famigerate candele per metro quadro altresì note come knit quindi quando sentite parlare di luminosità di 400 candele per metro quadro è semplicemente qualcuno che vuole dirvi vuole prendervi in giro in realtà sono knit cioè la candela per metro quadro è il knit o knit in plurale benvenuto ancora un'altra persona admit Danilo Vittori anche sei entrato se non sbaglio sì ciao Andrea eccoli che piacere vederti anche imbarazzante per me di fronte alla tua competenza parlare di queste cose quindi spero mi perdonerai nel corso divertito vediamo ok allora quello che si tiene tenete presente è che di solito i monitor consumer sia che più o meno di qualsiasi tipo in SDR quindi in la versione standard del dynamic range standard e non HDR rappresentano più o meno ok un massimale di 100 knit come luminosità mentre i display ok gli HDR display raggiungono tranquillamente i 1000 nits and above quindi è superiore ora cerchiamo di capire un secondo ecco se schiaccio nel posto giusto eccolo qua questa è la rappresentazione un attimino molto ben fatta fondamentalmente di quello che è la scala ok del dei knit d'accordo se guardate allora vediamo un attimino se riesco a fare questo che tipo di lavoro qua non vedete qua ops ecco ho messo subito la ragazza carina niente va bene va bene così allora se guardate qua questa barra ok fondamentalmente verticale è scritto real world ok è la range di luminosità del mondo reale se guardate sulla sinistra nella scala dei knit ci sono questi 5 esempi molto carini dove passiamo dalla visualizzazione delle starlight alla luce delle stelle che ha una rappresentazione approssimativa di 10 alla meno 3 alla meno 7 se non sbaglio knit ok mentre poi saliamo piano piano la luce della luna luce interne 100 knit il il come si dice il la luce del giorno daylight ok intorno al milione di knit fino ad arrivare al direct sunlight che è la luce diretta del sole d'accordo mi è capitato anche gente che mi dice ho provato a puntare alla camera sul sole e però mi viene tutto bruciato vedi te esattanto se non sei bruciato tu insieme alla camera e compagnia bella stai parlando di una stima di 1,6 cioè più di un miliardo e mezzo di knit ora che cosa significa tutto questo che l'essere umano percepisce ok approssimativamente 100 milioni di knit di luminosità il punto focale è che abbiamo una vedete la human vision la visualizzazione abbiamo questa visual adaptation come adattiamo come l'essere umano ok col suo organo visivo riesce ad adattare la sua visualizzazione di giorno e di notte su range ok che gli permette di vedere non più di di percepire scusate non più di 10.000 knit alla volta per quanto ne possa ok abbia questo range enorme lui può comunque avere un 10.000 knit alla volta di luminosità e vi assicuro che è uno sproposito ok è uno sproposito noi siamo abituati ricordatevi sempre che noi siamo abituati a lavorare con le macchine parlare di color parlare di color space eccetera 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 ma la cosa fondamentale è che noi come esseri umani siamo sempre più avanti il nostro occhio è sempre più avanti nella percezione del colore nella percezione della luminosità siamo macchine infinitamente più perfette di quello che siamo ancora riusciti a creare ok a parte la divagazione filosofica il succo è che così cosa qual è lo scopo dell'HDR semplicemente cercare di avvicinarsi il più possibile alla visualizzazione dell'uomo cioè alla vera visione umana ok alla human vision ora quello che succede è che come potete immaginare se guardate qui sotto SDR TV i 100 nit d'accordo sono ben lontani dalla rappresentazione ok di luminosità possibile per l'occhio umano e infinitamente quindi guardate 1,6 miliardi d'accordo quindi vi rendete conto già di quello che siamo abituati a vedere solitamente con lo standard che utilizziamo praticamente quotidianamente mentre l'HDR vedete come dicevo prima ha mille nit ok ha mille nit ha comunque vedete un range che scende ben al di sotto se guardate quest'area qua sotto dei 100 nit quindi è la rappresentazione la dimostrazione anche di quello che dicevo prima non parliamo soltanto di enorme luminosità no? parliamo di dynamic range quindi in alto in basso possiamo giocare con aree che si chiamano quelle che vedremo dopo specular in gergo quindi dei super incredibili white riflessi sulle carrozzerie e roba del genere e anche dei super black se vogliamo intendere o come vogliate chiamare ok? quindi dei mille nit ora tanto per chiarire un secondo il discorso dei mille nit no? approssimativamente c'è questo da capire noi si è detto l'industria ha detto ok noi percepiamo d'accordo alla volta 10.000 nit non c'è problema aspetta perché un altro che entra buongiorno buongiorno Giuseppe quindi facciamo un display a 10.000 nit va bene al di là della inquietante difficoltà oggettiva di realizzazione ok? di macchine del genere che prendono fuoco prenderebbero fuoco al momento quello che succede è che con i test che hanno fatto di vari chiaramente sulle chiamiamole cavie umane il punto è che 10.000 nit comunque per quanto noi li percepiamo in questa nell'adattamento della visione umana il problema è che è troppo luminoso non riusciamo a guardare un qualcosa che ti spari in faccia un testo bianco a 10.000 nit è impossibile e hanno trovato che il connubio più o meno uno dei connubi migliori è intorno al migliaio di nit ok? per l'utilizzo casalingo fondamentalmente che è quello noi non dimentichiamoci mai che poi la fine del nostro del vostro lavoro è quello di dare a qualcuno anche noi stessi per carità ma di dare a qualcuno il lavoro che stiamo facendo quindi è chiaro che dobbiamo pensare all'utente finale cioè se l'utente finale è un alieno che percepisce un milione di nit dobbiamo dargli un qualcosa che dovremmo dargli in qualcosa del genere mentre per noi il discorso è più semelice ok? quindi questo è il motivo dei mille nit sulle televisioni HDR ho perso il pulsore eccolo qua ora detto questo l'ultima cosa su cui volevo specificare un attimino cinema la prima volta mi chiamava cinema 48 nit 48 nit non sono niente stiamo parlando intanto non è che non sono proprio niente ma stiamo parlando per quanto riguarda il cinema per chi se lo stesse chiedendo di un environment totalmente controllato cioè un ecosistema controllato quando fanno i cinema non li fanno a casaccio non mi metto io a fare il cinema così per sistemarlo al di là dell'audio anche chiaramente la parte video è strettamente inserita in un contesto di struttura contesto strutturale che gli permette di avere una luminositore 48 nit più o meno al momento che rappresenta le nostre esigenze quando siamo al cinema ok ora sempre per ecco la ragazza di prima sempre per specificare un momento il discorso di nuovo chiarificare ancora che non abbiamo benvenuto Lorenzo benvenuto benvenuto non si tratta ok di soltanto di luminosità ma di dynamic range prendete in considerazione il monitor di sinistra no si tratta di un monitor sdr quindi tradizionale con una luminosità che può arrivare ad esempio anche 600 nit d'accordo quindi molto più luminoso di quello che dicevamo prima dei 100 nit il problema è che aria dell'immagine guardate questa parte qua questa dove avete i 600 nit indicati qua d'accordo la ritroviamo nel display hdr rappresentata d'accordo con i 600 nit benissimo il punto è che un'area più scura come questa che è sui 10 nit nell'sdr una volta che mi trasferiscono all'hdr lo stesso punto può raggiungere un livello di un nit capite bene che 610 601 c'è un divario ok estremamente pesante fra i due monitor quindi non è solo più luminoso sempre ma è più ha un high dynamic range un range dinamico più ampio d'accordo quindi un punto di nero molto più presente com'è che sto dicendo tutto giusto Danilo tutto a posto perfetto meno male se non ti sento ridere vuol dire che stiamo dicendo le cose giuste allora ci siamo tutti fino a qua fate freccine qualcosa in modo tale che cerco di essere più chiaro e più semplice possibile nel caso mi dite allora proseguiamo un secondo perché dobbiamo parlare di questa roba che ci prende un po' alla sprovvista prende molti alla sprovvista di che cosa stiamo parlando noi dobbiamo ci chiediamo come otteniamo questo tipo di risultato com'è che possiamo avere questo high dynamic range fondamentalmente no quando noi se guardate questo schema molto ben fatto no Sheenlight abbiamo la nostra luce che fa la vita tutto quello che abbiamo e abbiamo le camere che la registrano d'accordo? e questo è tutto un problema fantastico degli operatori eccetera eccetera DOP e compagnia bella quello che succede all'immagine cioè scusate alla luce dell'immagine è che viene trasformata in dati ok tramite un processo di encoding cioè quindi questo viene trasformato matematicamente utilizzando un sistema che viene definito OETF che è l'opposto si chiama Optical Transfer Function scusa Optical Electro Transfer Function cioè il trasferimento ok sui dati una funzione di trasferimento della parte ottica della luce in maniera elettronica d'accordo? quindi questo è quanto dopodiché noi andiamo a lavoriamo con questo tipo di dati Sheenreferred image data sono i dati che si riferiscono alla nostra scena benvenuto e alla fine chiaramente non restiamo lì dentro ma dobbiamo visualizzare il nostro materiale visualizziamo tramite le OTF Electro Optical Transfer Function che praticamente fa che cosa? quello che è stato fatto prima dalla camera per trasformare in dati e noi trasformiamo i dati in luce per vedere display light quello che sta succedendo ok quindi grazie a questo tipo di conversione le OTF noi abbiamo una curva che permette di trasformare il il materiale ok i dati dell'immagine in luce con una gamma dinamica un range dinamico differente è chiaro questo concetto? yes perfetto ora quindi step successivo ok non dirmi chiarissimo che mi gaso dico vuoi dire che ho capito qualcosa allora che io ho capito qualcosa di quello che sto dicendo che sarebbe tanta roba Danilo mi conosce sa che per capire io faccio fatica allora EOTF Electro Optical Transfer Function guardate abbiamo un una scala in NIT che partiamo da 0,0001 quindi il pochissimo saliamo un NIT 10,100 1,400 NIT molto bene allora quello che l'EOTF Electro Optical Transfer Function ok faceva primo click faceva per quanto riguarda veniva applicato per i display era stato sviluppato questa curva andava allora intanto questo EOTF per gli standard SDR si riferisce a uno standard che è stato dall'industria chiamato BT1886 ok e rappresenta ok viene utilizzato negli spazi di colore BT709 REC709 personalmente sono sempre andato in palla con questi numeri queste questi acronimi no che piacciono a tanti e in altri casi in altri casi no fondamentalmente ma il succo è che dovremmo oggi cercare di rendere il più fruibile magari per quelle persone che si trovano spesso a parlare di ma che tu c'hai il 1886 che famolo 709 allora questo è il concetto ok BT1886 è lo standard ok che si riferisce a questo processo EOTF che è stato sempre utilizzato ed è rappresentato con questa curva vedete che si appiattisce pa parte da qui e si appiattisce sui 100 nit per lo standard per l'SDR ok quello che utilizziamo per il come si chiama per l'alta definizione delle immagini che utilizza il spazio di colore REC709 o BT709 ok quindi è stato semplicemente sempre utilizzato e progettato lì la cosa importante è stato progettato per lavorare con display che arrivano fino a 100 nit ok top ora il punto è che se noi utilizzassimo questo tipo di curva su dei display che hanno la possibilità di rappresentare un range dinamico maggiore no quello che succede è che otterremmo degli artefatti fondamentalmente otterremmo del rumore di fondo sulle aree più scure e un bending sui colori fondamentalmente no che non troverebbero attenzione il bending sapete di cosa stiamo parlando pensate alla classica immagine che vedete o che vi capita miliardi di volte di vedere sulla vostra televisione quando accendete e vedete tutta una serie di bande magari sul tramonto o sui cieli che invece che essere belli fluidi nella loro nel loro colore hanno tutta una serie di band bending si chiama di bande che vedete proprio perché perché non è rappresentabile quel colore non riesce a spalmarsi su quella luminosità ok that's it quindi quello che succede è che otterremo questo tipo di problema anche se anche se utilizzassimo come si dice utilizzassimo dei segnali a 10 bit quindi molto elevati non a 8 ma a 10 chiaramente avremo sempre questo tipo di degradazione del segnale perché comunque non è stato progettato questo OTF per l'SDR per lavorare con un high definition range high dynamic range scusate ok quindi that's it infatti se guardate qua BT1886 stesso discorso ma a 10 bit la curva rappresenta meglio una parte ma blam si appiattisce comunque sui 100 nit ok quindi questo è il problema ora allora siccome il mondo per fortuna è fatto di persone che hanno voglia di fare ok alcune molte poche ma hanno voglia di fare il nostro amico SMTA la Society of Motion Picture Engineers è questo consorzio che ha creato tanti standard audio video e quant'altro e ha sviluppato dice ok io qualcosa devo fare per intervenire benvenuto a Guido benvenuto ciao allora qualcosa io devo fare per intervenire no in questa maniera allora sai che faccio mi metto lì e creo un nuovo tipo di OTF Electro Optical Transfer Function che fa sì che i miei dati vengano ritrasformati in luce con una curva di tipo differente una curva che si spara da 0,0005 nit più o meno fino ai 10.000 nit di cui parlavamo prima quindi praticamente sviluppa il range visivo che noi andiamo ad adattare a luce diurna a luce notturna ricordandoci sempre che non ci spariamo negli occhi i 10.000 nit ma abbiamo questo enorme contenitore dove posizionare il materiale d'accordo? ok il materiale visivo allora quindi lo occupiamo tutto dal momento che altro altro acronimo molto importante vedete che non si parla più di BT 1886 come facevamo prima ma parliamo di PQ ST 2084 l'ST 2084 è Electrical Optical Transfer Function lo ripeto sempre così si stampa nel cervello che rappresenta che è il nome che rappresenta questo nuovo standard semplicemente ST 2084 ok quindi vanno a spazio vinyl ST 2084 vinyl REC 709 sono queste le differenze no? siccome questa curva ok è basata sulla percezione ok come dicevo un attimo prima della visione umana d'accordo rispetto a quella di prima si parla di ci si riferisce come a un perceptual quantizer PQ quando leggete PQ curve significa PQ ST 2084 la curva è perceptual quantizer ok che significa che è basata sulla percezione del dell'essere umano ok e questo è un passaggio in avanti non da poco ora esiste anche un FIQUA tutto bene scusate lo chiedo tante volte ma è un argomento un po' particolare magari anche per per molti che non l'hai affrontato ok bending è un effetto di quantizzazione allora ascolta bending è un effetto di quantizzazione bit più che gamma dinamica I agree but allora giustamente Daniele segnala che è un effetto di quantizzazione ma vedi che proprio è giusto se tu hai 8 bit 10 bit 12 bit va bene più i bit sono corretti scusami più i bit sono in alto più i bit sono in numero maggiore più chiaramente io riesco a rappresentare l'immagine in maniera molto valida ma quello che dicevamo prima vedi quando avevamo il BT709 il BT709 10 bit comunque in un'area d'accordo attenzione in un'area al di sotto dei 100 nit fino ai 100 nit è chiaro che quello che dici tu è giustissimo il bending ha un effetto di quantizzazione ok di bit più che gamma dinamica ma nel momento in cui io supero e vado in un high dynamic range anche se a 10 bit d'accordo il problema è che ho degli artefatti comunque perché sto buttando un'immagine ok che in un'immagine l'immagine non riesce a essere rappresentata in maniera corretta con questo tipo di electro optical transfer function ecco perché si è creato l'ST2084 mi sono spiegato ti torna Daniele yes perfetto hai detto oh sì come dire sì hai detto una cazzata però ti lascio andare avanti scherzi a parte direi che ok questo era il concetto per cui assolutamente quello che dici tu è corretto però tieni presente che dentro il 709 quel problema ce l'avresti comunque ecco perché siamo andati a giocare la ora se fin qua ci siamo esiste anche un altro tipo un altro secondo per farci mancare niente un altro tipo di EOTF d'accordo si chiama hybrid log gamma l'hybrid log gamma è un altro tipo di curva d'accordo che è stata sviluppata in congenxion come si dice in collaborazione tra l'NHK se non sbaglio del Giappone quindi la BBC inglese più famosa probabilmente d'accordo che hanno creato una curva hybrid ibrida ok per quanto riguarda questo nuovo tipo di approccio all'HDR vedete può lavora tranquillamente cioè si adatta alla curva sotto i 100 nitte ok che utilizzavamo prima quindi si comporta nella stessa maniera quando lavoriamo su televisori asd r tv ma poi quando nel momento in cui superiamo vedete che la curva questa qua rossa amaranto quando superiamo quella luminosità la parte quando superiamo i 100 nitte la parte di luminosità viene trattata in modo diverso in modo da poterla comunque strecciare d'accordo fino ai 1000 nitte in modo tale che torniamo al discorso che dicevamo un attimo prima con Daniele quello che succede è che grazie a questo riusciamo a evitare e a ridurre moltissimo gli effetti di bending di cui parlavamo prima d'accordo che i colori incontrano quando non hanno abbastanza luminosità per poter essere rappresentati questa è la best ok best poi ok perfetto quindi queste tre possibilità fondamentalmente 709 ST2084 Hybrid Log Gamma ora andiamo a giocare con questa figura perché avere una proprio per il principio che dicevamo prima nel bending avere un'ampia gamma dinamica che rappresenta la luminosità in HDR rappresenta ripeto ancora non è solo più luminoso quello che vediamo ha una dinamica più ampia l'abbiamo visto prima abbiamo bisogno di spazi di colore più ampi per rappresentare più colori per rappresentare d'accordo in questo range di luminosità la nostra immagine sempre per il motivo di prima abbiamo più colori abbiamo meno artefatti e abbiamo la possibilità di metterceli perché abbiamo uno spazio abbiamo uno spazio molto più ampio ok il principio è sempre quello ok quello che vedete qua per molti un must per altri magari è il nulla cosmico semplicemente è una la rappresentazione su questa curva di tutti i colori visibili dall'occhio umano ok tutti i colori visibili dall'occhio umano come ormai ovviamente sapete o avete immaginato o capite non sono rappresentabili da nessuna parte ok nessuno non esiste niente che possa rappresentare tutti questi colori no ah per curiosità questa tipo di curva questa rappresentazione si chiama CIE in francese non lo dirò mai non ci riuscirò mai perché è la commissione internazionale dell'illuminazione ecco non lo so e si chiama la trovate rappresentata per esempio anche dentro Da Vinci risolve tra le varie scopes ok yes Davide ci arrivo fra un attimo quello che dicevi tu il scusate dicevo rappresentata come si chiama CIE d'accordo 1931 1931 perché inquietantemente parlando degli esperimenti empirici della fine degli anni 20 ok permetteva di ha permesso di mappare come l'essere umano percepisce ok i colori quindi dall'epoca con varie eventuali modifiche ma ci siamo portati dietro questa curva quindi è pazzesco se vogliamo pensarci ecco perché trovate la scritta 1931 proprio l'anno in cui è stata definita no poi detto questo ok quando noi andiamo a vedere come visualizziamo lo spazio di colore RAC709 di cui parlavamo prima nell'SDR ecco guardate che poca parte tra virgolette andiamo a rappresentare a poter vedere ok del del nostro della visione umana ok quindi dicevamo prima abbiamo bisogno di più informazioni fondamentalmente no nello spazio nell'high dynamic range per cui si è pensato di svilupparne un altro tipo che è il P3 D65 ok che è quello ok fondamentalmente utilizzato adesso nel cinema utilizzato dal Dolby Vision ok i due spazi di colore più comuni dell'HDR sono il P3 D65 ok e il REC 2020 ok di cui parlava David un attimo fa ok il P3 D65 è rappresentato interamente al 100% da svariati tipi di monitor il REC 2020 no non esiste al momento nessun tipo di monitor che rappresenta il lo spazio di colore 2020 che se guardate è enorme ma ancora lascia fuori un enorme fetta di quello che noi riusciamo a percepire quando andiamo fuori e guardiamo nei campi babari ok allora il REC 2020 è stato introdotto come color standard dall'introduzione degli ultra HD 8K per le televisioni di quel tipo ok e il P3 D65 ci sta tranquillamente dentro ok possono essere in più lo spazio di colore il CDA può essere chiaramente come si dice delivery consegnato buttato fuori sia a 10 che a 12 bit d'accordo quindi questo è importante dipende anche dal tipo di formato che ti viene richiesto ora quindi è chiaro questo concetto di spazi di colore e la domanda è giustamente che ci poniamo tutti finché qualcuno non ti dice perché ma se il 2020 non è rappresentato da nessun monitor parliamo di monitor devastanti tipo il Dolby Pulsar ok per esempio che sono ce ne sono tipo un paio che girano nei loro studi della Dolby e sviluppano una luminosità se non ero fino a 4000 nit esatto Xacmont David David me lo conferma e ti ringrazio parli di una copertura non mi ricordo 80% 78% una roba del genere sinceramente non mi ricordo la percentuale ma non ci arriva e parli di un monitor che ha mi raccontavano recentemente proprio un monitor che ha un costo di 400.000 euro circa e attenzione la cosa divertente è che mi hanno spiegato che quello che che dici madonna come costa perché lo vogliono vendere no perché comunque tipo 350 li spendono per realizzarlo con la tecnologia perché stai consumando un'energia per dare quella luminosità che ha bisogno di ricerche di materiali incredibili quello che dicevo un attimo fa era che perché il record 2020 ok e hard reset studio faccio finta che ti chiami così scrive nella chat d'accordo e ha perfettamente ragione sarà fruibile un domani se io lavoro ok con del materiale che potrebbe che ha tutte quelle componenti ok ma non può essere rappresentato oggi fra dieci anni fra cinque anni fra tre anni fra due fanno un monitor che è 100% REC 2020 io guadagnerò tutto quello i materiali che erano ok girati prima potranno essere revisionati e rimasterizzati con una miglioria tecnologica esagerata ci siamo? quindi è come se mi mettessi da parte in una scatolina il mio materiale ha il meglio della sua possibilità poi sai che c'è fra tre anni quella scatolina può essere aperta perché può stare in uno spazio più ampio è chiaro il concettone? esatto in realtà per quello che dice che si usa l'archivio in questo senso giustamente si parla poi anche di flussi di lavoro tipo l'ASIS ok dell'Academy qualcosa poi accenneremo che permette proprio di tutto il flusso di lavoro compreso il suo archivio è proprio progettato per dire adesso faccio il massimo possibile e domani apro le stesse cose saranno ancora meglio questo è il concetto ok delle grosse measure fondamentalmente di Prime di Netflix eccetera eccetera esattamente infatti come è ovvio che lavorando quindi con le sfumature di colore come giustamente fa notare Flyflow ci sono infinite sfumature di colore migliori cioè in aggiunta nell'HDR rispetto all'HDR ora quindi ricapitolando quello che abbiamo detto fino adesso se guardiamo un attimino questa situazione ok quindi l'Electro Optical Transfer Function EOTF e Color Spaces quello che succede è che abbiamo il nostro fantastico contenuto sorgente abbiamo la possibilità ad esempio in DaVinci Resolve adesso vedremo un secondo come come approcciarsi in vari modi vediamo qualche esempio uno dei modi che potremmo fra un attimo poi più usati sul pianeta in Resolve è il fatto di utilizzare Resolve Color Management come viene gestito per l'appunto il colore o laces ok ne parleremo fra un attimo entrambi vedete scusate ho la possibilità di lavorare in che modo per quanto riguarda le OTF con l'ST2084 oppure l'HLG Hybrid Log Gamma quello che è ibrido vi ricordate prima e il livello di nitty dipende dal monitor che abbiamo parlavamo prima poi parleremo nell'ultima parte nel nostro incontro della monitoria e dei vari monitor quello che succede è che a livello spazio di colore possiamo utilizzare invece either cioè uno o l'altro non ha importanza il P3 ok D65 oppure REC 2020 molte delle televisioni sono abituate a lavorare in 2020 e andiamo a finire su il mio monitor di riferimento che per quanto io li possa sparare su giù quello che voglio il livello massimo di nitty è quello accettato dal monitor d'accordo se il monitor fa due nitty non è che li posso sparare diecimila nitty tanto ok nulla accade ok per poi lo ridiciamo ma per i curiosi che non lo sanno l'ASIS è significa Academy Color Encoding System è stato è uno standard è un workflow operativo che è sviluppato dall'Academy quindi il consorzio che si occupa che è dietro ai premi Oscar per intenderci ci sono tante aziende nel mondo che stanno lì dentro per conoscenza Inca Vinci Resolve a proprietario Resolve Color Management ma lavora anche in ACES Blackmagic non fa parte del consorzio di quelle aziende ma lavora tranquillamente col workflow di ACES ok ACES è un workflow operativo dicevo prima amato da tanti odiato da tanti non lo dico io lo dicono dei colorist bravi ok quindi non io quello appunto quindi fidate allora ancora una cosina ecco qua a seconda di quello che siccome il video è fatto di questo cioè farci impazzire rispetto all'audio il video è fatto in questo modo noi abbiamo HDi Formats questi quattro sono i più gettonati se vogliamo ok abbiamo Dolby Vision abbiamo l'HDR10 l'HDR10 Plus e l'HLG Hybrid Load Gamma ora per quanto riguarda il Dolby Vision l'HDR10 Plus e l'HDR10 ok lavorano con le TOFST 2084 per quanto riguarda l'HLG vi ricordate aveva una curva differente che l'HLG dopodiché per quanto riguarda il Dolby Vision lavoriamo lavora ok come standard con il P3 di 65 mentre gli altri tre come standard REC 2020 ma questo non significa che io non possa avere un 2020 d'accordo all'interno del Dolby Vision o un P3 all'interno del delivery degli HDR10 Plus 10 H-C-H-L-G parleremo un attimino poi due dati dopo quando si capisce meglio per dirlo adesso un po' una forzatura ma perché 10 perché 10 Plus perché 2 cos'hanno di di eclatante di differente no? ultimissima cosa non è così poco comune che REC 709 l'Ibrid Love Gamma potendo lavorare bene in quel modo al di sotto dei centonette ok e sfruttando quindi il REC 709 eh Zilupi per l'appunto contenga un deliver in 7 0 9 ok that's it e qua siamo alla fine della nostra prima parte ok Davide quello che dice è corretto lo vediamo dopo era quello che dicevo non voglio anticipare questa cosa però quello che dici è corretto e vi farò vedere poi come e perché di quello che dici tu adesso ok ora se io passo adesso devo fare questo tipo di lavoro aspettate un attimo allora un momento che adesso si complica il tutto perché devo interrompere sharing stop sharing un momento devo share screen un altro che è questo share mi allegramente dite che vedete l'interfaccia di DaVinci Resolve o no sì perfetto ok ragazzi intanto grazie per la pazienza perché mi rendo conto che seguire delle slide non sia semplicissimo ma un po' l'unico modo per poter approcciarsi ok in questa maniera è tutto chiaro vi soddisfa vi state annoiando a me piace un sacco questa roba qua ci capisco niente però è bellissimo è proprio bello ok quindi perfetto allora ci sono diversi modi ok di entrare in un lasciamo un po' così allora ci sono diversi svariati modi di mettere il nostro amico Resolve in modo da lavorare in HDR in un profilo HDR i tre più Alvaro buongiorno buongiorno Alvaro nuovo arrivato allora i tre più fra i più no nodi è la possibilità di utilizzare i non gridate subito prima ve li dico così specifichiamo i LAT usare i nodi clip by clip oppure usare il workflow operativo del Resolve Color Management in ASUS ok per tanto per conoscenza no le persone ovviamente ci sono anche qua persone che amano i LAT persone che li detestano colorist mondiali che odiano i LAT eccetera eccetera no comunque è possibile poter lavorare applicando ok un LAT direttamente al mio nodo in modo tale da poter far sì che io entri in un profilo HDR allora prima vi faccio una piccola modifica all'interno del Camera Raw trattandosi di Black Magic Raw mi vado a impostare ok una piccola curva con questo tipo no si è ingrippato tutto vi sentite ancora? se vi sentite si è schiantato tutto e torno fra pochissimo state lì ok perché si è schiantato proprio la macchina torno ok grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 e poi, Grazie a tutti. 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 No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.